Allora andrei avanti con l'altra nostra concorrente Siamo già al numero 10 Numero 10 Paola Zonesta Dottor Anna L'argomento è vivere leggeri con due chili di batteri Bene, con il tuo al palco Tre minuti anche per lei Due chili Ma per fortuna sono così piccoli Che noi possiamo andare in giro Con due chili di batteri Senza sentirne ingombrati come dieci pesche Ma i batteri non sono solo nel nostro intestino Sono sulla nostra pelle Sotto le occhie Il format? Che cosa cambieresti in questo format? Magari un minuto I presentatori Un minutino in più per spesi Sì Di 4 minuti Perché non è un po' veloce loro Perché hai apprezzato l'intervento Perché era talmente bello sentirli Che te avrei sentirli per un minuto in più Braa Che bello Grazie 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 Quindi abbiamo una chiave particolare per aprire il lock, come questo, la proteina necessita un piccolo composto di ligand, che deve essere bindato. Quando la squadra è completa, mandiamo un po' di musica di suspense. Ha chiamato tutta la squadra? Sono tutti qui? Sono tutti schierati. Dato un applauso! Un forte applauso! Questo bellissimo premio, bravissima! Perfetto! Però manca un'ultima cosa! Adizioni! Perfetto! 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 Sì! 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 In questo momento io mi parli penso che è un ambiente... tutto questo... Un minuto con il prodotto. Mi sono finito... Un po' di 25, un po' di 26. se la hai lavorato se la hai lavorato va bene, 24 anche va bene e come si sa?